il card dice con il ministro la lei e il sancesco è anche bella è l'estra vai vai vipo vai 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 no 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 come sei no ragazzi no no non dà la colpa ai genitori devi dare la colpa ragazzi voglio imparcare il vino per gli altri è l'unice chi è l'unice chi è l'unice chi è l'unice chi è l'unice non è sempre buone ora non l'avete mangiata bene lì non l'avete mangiare si ok ok c'è il barcellona che di marcenze caminho sennike bravo guarda stappu stappu pariva bravo buono bravo 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 La Porto, la Porto, la Porto Dai, 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 dai Bello Dani Sì